Fiond alla mano hanno sparato raffica sfere d'acciaio contro la finestra di un concittadino, ma non si tratta di due bambini piccoli, inconsapevoli della gravità e pericolosità di un tale gesto, bensì di due adulti, un 60enne e un 53enne di Calolzio Corte, ora denunciati a piede libero dai carabinieri della stazione locale per aggetto pericoloso di cose e porto di oggetti atti ad offendere in concorso. I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, quando i due quantomeno irresponsabili. Verosimilmente, su segnalazione di alcuni residenti, sono stati sorpresi dai militari mentre scagliavano con l'utilizzo di due fionde palline d'acciaio in direzione della finestra dell'abitazione di un uomo con il quale pochi giorni prima avevano avuto un diverbio. All'origine della discussione futili motivi che però i due non avevano digerito, mettendo in pratica questo dispetto che poteva avere anche gravi conseguenze se le sfere d'acciaio avessero colpito ad esempio un passante. I due colti sul fatto sono quindi stati fermati e denunciati dai carabinieri che ora indagano per stabilire se episodi analoghi accertati nel mese di settembre, sempre a Calolzio Corte, sia i danni di un negozio sia i danni di un privato cittadino, siano riconducibili al 60enne e al 53enne denunciati ieri sera dagli uomini dell'arma.